Notizia di Prato Tg, a tutti buonasera. Nell'edicola, giornali e droga. Arrestato un quarantenne dopo un blizza dei carabinieri di Prato, per la precisione di Iolo, e di Firenze. Sentite. Nella sua edicola in via Matteo degli Organi a Galciana vendeva insieme a riviste figurine dosi di hashish che confezionava al momento su richiesta. L'uomo, un quarantenne di Barberino del Mugello con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri di Iolo e da quelli della compagnia di intervento operativo di Firenze, il cui cane, Batman, ha fiutato la droga. Due etti e mezzo di hashish suddivisi in tre panetti con tutto l'occorrente per il confezionamento sistemato in bella vista su una scrivania sul retro dell'edicola. Altra droga, 5 grammi di cocaina da cui si sarebbero ricavati almeno 20 dosi, sono state trovate sequestrate nell'abitazione dell'edicolante insieme a 4.400 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il quarantenne è finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Stamani l'uomo è comparso davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato che ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Il processo per direttissima è stato aggiornato a metà aprile. Il sottopasso del soccorso costerà 10 milioni di euro in più e ci vorranno 900 giorni per realizzarlo. Sentite Leonora Barbieri. È lievitato di 10 milioni di euro il costo dell'interramento della declassata al soccorso da 36 a 46 milioni di euro. L'aumento dei costi è da imputare a scelte tecniche che comportano uno scavo maggiore e l'impermeabilizzazione degli oltre 400 metri di tunnel. La novità è emersa questa mattina nel corso della presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del tunnel da parte di ANAS. I tecnici della società statale ritengono che tale aumento pari al 30% sia normale quando si passa da una fase di progettazione di massima a una più dettagliata. I soldi aggiuntivi dovrebbero essere coperti sempre dal Cipe che ha già stanziato 31 milioni di euro statali a cui si aggiungono i 5 comunali. Il cantiere durerà 900 giorni. ANAS conta di appaltare a giugno 2019 salvo ricorso al procedimento di via. Nel frattempo dovrebbe essere concluso l'iter di statalizzazione della strada. Risolta la questione falda. Emerge il posizionamento di una falda attuale di una certa quota che è circa meno 13,5 rispetto al piano di campagna e una possibilità molto cautelativa che questa falda risalga fino a una certa quota che è circa 4,5 m sotto il piano di campagna. Allora su questi due dati abbiamo dimensionato tutto l'intervento affinché non ci sia interferenza tra struttura e movimento della falda e contestualmente in un possibile innalzamento, ripeto molto cautelativo, la struttura riesca ad essere impermeabile rispetto alla falda ma nonostante questo consentire una sua naturale filtrazione per poter mantenere il sistema naturale che questa richiede. Lo scavo di oltre 10 metri per un totale di 270.000 m3 di terra da smaltire è una delle voci più costose, circa 4 milioni di euro ma potrebbe essere più che dimezzata attraverso un accordo con autostrade che preveda l'utilizzo delle terre per il cantiere della terza corsia della 11. Vediamo ora i tempi per la costruzione della complanare, ossia la viabilità comunale di sopporto. A breve partiranno i lavori del primo tratto che in sostanza il prolungamento di via Tasso verso via del Purgatorio dovrebbe essere pronto entro l'agosto prossimo. Il secondo tratto tra via del Purgatorio e via Nenni con costruzione di una rotatoria su via Nenni dovrebbe iniziare a fine estate e concludersi per il febbraio del 2019. La costruzione di questo tratto di strada prevede la demolizione di due edifici industriali che saranno completamente spropriati. Dunque tutto deciso per il sottopasso del soccorso, sentite ancora Eleonora Barbieri. Un'enorme soddisfazione che ripaga il tanto lavoro fatto e l'impegno profuso fin dal 2013 per dare risposta alle problematiche di mobilità con in più una riqualificazione cittadina importante. Così il sindaco Matteo Biffoni commenta il progetto del tunnel presentato da ANAS per raddoppiare la declassata tra via Marx e via Nenni. Preoccupato per l'aumento dei costi di 10 milioni di euro? Neanche un po' nel senso che vedo direi impossibile chiunque sia il sindaco, chiunque sia il governo che si tolga una città come quella di Prado 30 milioni di euro perché non è prima di trovare gli ulteriori milioni. Bisognerebbe fare l'esatto opposto cioè togliere 30 milioni di euro già assegnati la vedo molto compliata. Per il consigliere d'opposizione Aldo Milone invece il comune si è infilato in un vicolo cieco che creerà un danno enorme alla città. Innanzitutto bisogna capire se il CIP è disposto a coprire questo costo in più e poi valutare i rischi per il traffico. Alcune domande, prosegue Milone, mi sorgono spontanee. Come mai quest'ulteriore aumento dei costi non è emerso prima visto che la giunta Biffoni non ne aveva mai parlato? E poi siamo sicuri che non ci saranno delle varianti in corso d'opera? In un chiosco di street food abusivo di Firenze usava tra gli ingredienti carne scaduta e anche cavallucci marini specie super protetta. Per il cinese che gestiva la struttura sono scattati denunce a sequestro del chiosco e di tutta l'attrezzatura oltre a una maxi multa di 5 mila euro. A intervenire nella notte tra sabato e domenica la polizia municipale, l'uomo è residente a Prato. I vigili hanno riscontrato molte violazioni delle norme igieniche. La denuncia invece è scattata per l'utilizzo come cibo di cavallucci marini in quanto specie protetta. Tanta paura ma per fortuna nessuna conseguenza. Oggi pomeriggio alla scuola media Salvemini Lapira di Via Deledda a Montemurlo dove il forno usato per il laboratorio di ceramica si è surriscaldato mandando a fuoco le guarnizioni in gomma dell'apparecchiatura. L'aula che si trova al piano terra a pochi passi dall'uscita si è così presto riempita di fumo. I ragazzi sono prontamente fatti evacuare e sono stati radunati nel vicino Parco della Pace. sul posto i vigili del fuoco di Montemurlo. Il preside ha seguito tutte le fasi dell'intervento e si è preoccupato del corretto svolgimento di tutte le operazioni di evacuazione della scuola. Sul posto anche il sindaco Lorenzini insieme al comandante della Polizia Municipale. Tradito da un adesivo attaccato al vetro posteriore dell'auto, un automobilista è finito nei guai dopo aver provocato un incidente ed essersi allontanato. I fatti risalgono alla notte dello scorso 5 marzo. L'uomo facendo marcia indietro in piazza del Mercato Nuovo finì addosso a una macchina parcheggiata causando un grosso danno e allontanandosi. Ora la Polizia Municipale lo ha rintracciato, dovrà pagare due verbali per un valore di quasi 350 euro e gli saranno decurtati sei punti dalla patente. La proprietaria della macchina danneggiata segnalò questo fatto alla Polizia Municipale. Le telecamere installate nella zona hanno consentito di rintracciare la macchina, però la targa non era leggibile. Era però ben visibile un adesivo attaccato sul vetro posteriore. Grazie a questo gli agenti sono risaliti appunto a questa auto. Hanno rubato un giubbotto con all'interno di una delle tasche un portafogli con 140 euro ma sono stati scoperti e denunciati. È successo la notte scorsa in un ristorante di Via Curtatone. I ladri, un uomo e una donna, 18 e 38 anni, entrambi rumeni, sono stati ripresi dalle telecamere mentre si impossessavano del giubbotto lasciato su una sedia da una donna e sono stati individuati dalla Polizia poco distante dal locale. Hanno ammesso le proprie responsabilità. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Sarà a Prato ad ospitare il corteo dei lavoratori e il comizio dei tre leader sindacali del 1 maggio, prossimo tema della tradizionale festa dei lavoratori. Sarà quest'anno la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo fanno sapere CGL e Cisle Willi in una nota congiunta spiegando che hanno scelto la città di Prato perché rappresenta un'importante e simbolica realtà industriale dove il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è fortemente sentita. Un riferimento preciso al progetto Lavoro Sicuro varato dalla regione dopo la tragedia della Teresa Moda e da anni sta impegnando molte risorse proprio nel controllo e nella sicurezza dei luoghi di lavoro. Iniziativa di solidarietà per realizzare due laboratori di cucina al carcere della Dogaia. Sentite Alessandra Grati. Una staffetta per allestire i laboratori di cucina e di sala all'interno della casa circondariale della Dogaia. Servono 57.000 euro per pagare i lavori di muratura ma anche pentole e attrezzature. I due laboratori saranno a disposizione dei 60 allunni che da settembre frequentano le lezioni per ottenere il diploma alla scuola alberghiera ad Atini e sono stati realizzati all'interno del polo scolastico allestito nel carcere. I lavori sono già iniziati e termineranno a metà aprile. L'alberghiera è una scuola abbastanza complessa. Abbiamo bisogno dei laboratori di sala e di cucina. Oramai sono quasi completamente finiti i lavori di realizzazione dei due laboratori. Noi come scuola ci occuperemo del resto, delle attrezzature, della parte didattica perché ci interessa fare in modo che i detenuti possano acquisire un titolo di studio facilmente spendibile per l'inserimento nella società. Contemporaneamente è partita una staffetta di solidarietà tra provincia, Caritas, Fondazione Il Cuore si scioglie e sezione Coppa Prato. Da oggi è online sul sito di Epla il co-found in cucina aperte con l'obiettivo di arrivare a 15.000 euro. La provincia ha contribuito con 7.500 euro, la Caritas con 18.000 e i restanti verranno aggiunti dalla direzione carceraria. Ha portato delle modifiche nell'ex laboratori e quindi le abbiamo trasformate. Abbiamo fatto una sala e vente di 140 metri quadri più una cucina di 85 metri quadri. Abbiamo portato delle modifiche e nei lavori abbiamo fatto intervenire anche i detenuti. La Caritas è anche il capofila del progetto. Abbiamo cercato di mettere insieme tutti i vari soggetti sul territorio che potevano sostenere e dare una mano a questo progetto. Pensiamo di poter dare la possibilità ai ragazzi che frequentano la scuola alberghiera all'interno del carcere di prepararsi per poi, quando hanno la possibilità di uscire, di avere un lavoro che permetta loro di poter provvedere a se stessi e alla propria famiglia. Lutto a Migliana per la morte la notte scorsa di Luigi Martini, fondatore del bar Macelleria Trono, punto di riferimento per l'intera comunità della Val di Bisenzio. Martini, 84 anni, aveva da tempo affidato la gestione del negozio al nipote senza però mai lasciare del tutto l'attività. La salma è esposta nell'abitazione della famiglia Martini, sopra la Macelleria. I funerali si terranno domani alle 14.30 nella chiesa di Migliana. Era questa la nostra ultima notizia. Grazie a tutti per aver scelto Notizie di Prato Tg. Arrivederci.